Buonasera, buongiorno portiere, sono una telecronista di telecamere in vacanza. C'è una telecamera per me? Lei forse vuole una camera. Esatto. La chiamo sempre direttore. Grazie. Ah, che bello. Che c'è? La signora vuole una camera. Buongiorno direttore, vorrei una telecamera. Una telecamera? Come si riferisce a telecamere? Una camera, insomma. Ah, una camera? C'è una telecamera e noi telecamere non abbiamo. Abbiamo camere, camerette, camerini. Dunque, mi dispiace, signore, ma è tutto esaurito. Abbiamo l'esaurimento, come si fa? Ma questo è un disastro, dove vado a finire? Vediamo un po'. Il 345, perdono. Non è fatto. Il 720? Nemmeno, no. Il 3500? Nemmeno. Il 10.000? Nemmeno il 10.000. Signore, mi dispiace, ma è tutto esaurito. Direttore, ma cerchi di sistemarmi, non so come passare la nottata, se no. Beh, insomma, se proprio per una notte si intatterebbe. Sì. Potrei arrangiarlo, potrei darlo alla camera mia. Come starebbe la camera sua? Sì, io le cedo la mia camera e vuol dire che io dormirò nell'anticamera. Poveretto, grazie tanto, eh. Contento a me, grazie. 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 Grazie per la visione!